Stasera, i campioni, perché sono i campioni del mondo di Pango e Scenario del 2017, Simona Facchini e Gioia Alvarez. Stasera, i campioni, perché sono i campioni. 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 Allora è il mio corazone, venite a perdere, mia sin soltà, se abriva un po' suonare a tever, e io sto isolando così. Grazie a tutti. Grazie a tutti.